Bagnanti, attenti e disciplinati in questo fine settimana di Ferragosto che in molti hanno deciso di trascorrere al mare. La comodità dei lidi apprezzati del capoluogo adriatico ma anche la possibilità di scegliere posti meno affollati come le spiagge libere di Pescara che comunque il Comune ha dato in affidamento ad associazioni su bando di gara per la gestione dei servizi di spiaggia è stata infatti scelta da molti per trascorrere un giorno di mare al caldo sole di Ferragosto. A tracciare un bilancio di questo ponte festivo che già ci lasciamo alle spalle è Riccardo Padovano, presidente regionale della Sib, società italiana Balneari. È andata benissimo, abbiamo avuto una domenica e lunedì 14 e 15 di agosto pieno di bagnanti. Ieri ci sono state feste sui lidi, bagnanti che ballavano con i titolari. Beh, abbiamo rivisto un Ferragosto degli anni 70 dove la giornata di Ferragosto era il momento di festa. Abbiamo anche garantito attraverso questo nostro servizio di prevenzione il servizio dell'ambulanza del mare e quindi nei tre giorni 13, 14 e 15 siamo stati presenti, abbiamo dato un supporto alla ASL di Pescara e a tutta la comunità. Sono stati fatti circa 12 interventi, la maggior parte fatti sulla costa tra Pescara, Francavilla e Montesilvano. Gioiamo a questo 15 di agosto perché abbiamo riscoperto con i nostri bagnanti l'importanza di essere titolari di uno stabilimento balneare. Ci sono tante responsabilità che noi dobbiamo mantenere e governare. Governare significa fare che il nostro mare, che la nostra spiaggia sia sempre di più appetibile per i nostri bagnanti e non appetibile per i grandi gruppi, quelli che comunque si stanno muovendo facendo in modo che entrino altre società grandi e che fanno scomparire l'immagine dell'impresa balneare. Il riferimento è alla spina nel fianco della direttiva Bolkestein e alla riforma normativa sulle concessioni demaniali balneari che dovrebbe arrivare entro la fine del 2023. Ma intanto, continuando a parlare di Ferragosto, Piero Morelli, responsabile della sala operativa della società di salvamento di Pescara che abbiamo incontrato nella sede situata sul Molo Nord, parla di bagnanti disciplinati, considerato che nessuna operazione di salvataggio è stata portata a termine dalle circa 100 postazioni presenti sul litorale tra Francavilla, il Mare, Pescara e Montesilvano. Sono stati quattro giorni intensi perché comunque i dati sull'affluenza delle persone sono stati abbastanza importanti. Fortunatamente non abbiamo registrato interventi di soccorso ma sono state tutte misure comunque sia preventive. Ci siamo limitati all'osservazione, all'avvertimento e comunque sia un'azione preventiva che ha dato i suoi risultati. Fortunatamente è andato tutto per il meglio. Riccardo Padovano è presso, forse adesso anche per pensare alla prossima estate, però quando è stata presentata l'ambulanza del mare si era detto che questo è un primo passo anche per riproporre poi in un prossimo futuro una sorta di guardia medica sul mare per evitare di sovraffollare il pronto soccorso di Pescara. L'iniziativa di mettere l'ambulanza del mare è per arrivare a questo obiettivo. Noi vorremmo essere promotori di questa iniziativa. Se i carabinieri come hanno fatto quest'anno ci danno l'ospitalità, se l'assessore Verì può mettere in piedi un ragionamento attiviamoci a fare subito il progetto per l'anno prossimo.